Eccomi qui, eccomi qui ragazzi con il mio supporto per android con pad playstation 4, questo è un pad playstation 4, questo è il mio android, il mio smartphone e come supporto abbiamo questo aggeggio qui come vedete supporto proprio per ps4, per pad ps4, costa pochi euro su qualunque store su internet e noi oggi andiamo a giocare, guardate a cosa, ma stiamo già registrando, andiamo a giocare a un gioco appunto android Asphalt 9 Legends, attenzione ragazzi questo gioco è abbastanza carino, molto carino anzi, come si gioca? Come si gioca in breve? Bisogna fare delle gare, delle gare giornaliere o gare di carriera, bisogna accumulare dei progetti, questi progetti ci servono per sbloccare altre auto da utilizzare poi C'è la categoria, ci sono le opzioni tune anche, dove possiamo modificare l'auto sia sui colori, sia sulla carrozzeria e sia sul motore quindi Ma noi andiamo subito a provare il gameplay, abbiamo questa BMW, io ho già fatto qualche gara, però andiamo insieme a vedere da dove andavo, andavo da qui Avevo fatto 5 su 6 questo primo obiettivo diciamo di carriera e ci manca San Francisco questa qui Prendiamo, prendiamo, prendiamo la nostra BMW sta qui, allora vi faccio vedere come si potenzia, allora qui a sinistra abbiamo velocità massima Clicchiamo sopra con 1900, accelerazione, potenzia, manovrabilità, potenzia e nitro e vai Ok andiamo più sicuri in gara, vi faccio vedere in gara adesso come funziona Obiettivo gara è terza posizione, ok L'auto accelera da sola ragazzi, noi dobbiamo sterzare Come vedete, sterzare prima di tutto Poi spingendo le due, due volte ragazzi, guardate che fa Attenzione, buttiamo le macchine fuori in strada, attenzione, le buttiamo fuori in strada Poi abbiamo il NOS Attenzione qui, mamma mia Abbiamo il NOS, vedi qua è tutto cappottato Poi tenendo premuto L2 nelle curve Ci derapa ragazzi, bellissimo Derapando si acquisisce NOS che possiamo utilizzare Attenzione là, potevo saltare Guardate quando spingo due volte R2, guardate che succede bellissimo, fa il 360 gradi Uh, del gelataglio No, ti prego non finire Uh, attenzione qui Torniamo il NOS subito Vai, che posizione siamo? Secondi Attenzione che c'è un salto qui Uh, abba mia, si torna sulla strada Attenzione che non è finita ancora Guardate, questo vuole scendere da qui Attenzione Super NOS Non finisce ragazzi, questa è più lunga Attenzione, vai col NOS, attenzione, col BMW Uh Pogliamo il salto No Mamma mia Ah, là ci sono dei salti, però non li prendo mai Bellissimo Ma comunque per essere un gioco, diciamo, Android Veramente che, cioè io non sono abituato a giocare a questo genere di giochi ragazzi Però ci sono veramente giochi veramente molto belli, molto divertenti Tipo i giochi di auto che a me piacciono tanto Risultati gara, abbiamo vinto in pratica, abbiamo fatto prima posizione Adesso vi farò vedere che abbiamo sbloccato dei punti che ci permettono di sbloccare altre auto Allora, noi abbiamo sbloccato per ora nuova stagione SB Perché avevamo finito la stagione precedente Eccola qui Infatti, complimenti, hai completato questa stagione Andiamo avanti E ci sblocca, come vedete, la seconda stagione di carriera Eccola qui Si inizia dalla Scozia Vi faccio vedere l'altra auto che ho al momento Che è la Lancer in pratica Eccola qui La lascio vedere un attimo La grafica veramente carinina, carinissima Cioè abbiamo un pacchetto gratis Qui sopra, come vedete Eccola qua, pacchetto premium No, non è gratis In pratica si, bisogna comprarlo Che cacchio mi dici che è gratis Che dite se la miglioriamo un po' Magari sulla velocità massima Nitro e vai, si parte No, comunque sono giochi carini ragazzi Sono giochi che hanno la portata di tutti diciamo Poi c'è la modalità Io ad esempio sto utilizzando la modalità pad Quindi è diciamo un pochino differente Della modalità touch Però anche la modalità touch Ho visto che è molto divertente Ho fatto qualche gara E onestamente mi sono divertito Andiamo a giocare di nuovo con la Lancer Siamo in Scozia Grado consigliato 518 Ci dice qua, sfinistra Però penso che la mia auto è un po' più alta di grado Se non erro Comunque andiamo a vedere Si parte, attenzione Questa me la tryardo bene Dai, let's go Andiamo, andiamo Si parte Uh Abbiamo subito un po' di nos qui Vediamo se riusciamo a buttare fuori questo No Ah, mi sono andato io fuori strada No, non lo Attenzione qui Abbiamo un saltaccio qui Guardate quando faccio così Sono le staccionate però Mamma mia, ho preso un nosso Un omicidiale Poi spingendo il nosso nel Attenzione Nel giusto momento Spingendolo di nuovo Ci dà un ulteriore bonus Di nitro Guardate che ci fa andare ancora più veloce Qua si era bloccato tutto Siamo a derapare un po' qui Uh, attenzione No, non ci vedo Si era bloccato la mano Voglio far distruggere uno Oh, mamma mia, che bello Distrutto Madonna, che incidente Questo gioco mi ricorda un po', non so Burnout Incidenti di burnout, ragazzi Fatemi sapere se vi piace Se vi piace Cos'è qui? Madonna mia Non si capisce, ragazzi Guardate che siamo alla fine Attenzione Sì, la macchina ci ha permesso Con la sua potenza Di riuscire anche A vincere Questa gara Anche se mi sono schiantato Un paio di volte Però niente di che No, abbiamo Ho giocato abbastanza bene Ci andiamo a fare L'ultima gara Adesso Poi ci sono tante auto Ragazzi Attenzione Perché le auto Sono belle Sono belle Sto a grado D E ho sbloccato solo due macchine Ma abbiamo anche tipo La Chevrolet Camaro Eccola qui Bellissima Abbiamo La Nissan Left Nismo RC Bella questa pure Facciamo fare Un giro panoramico Bella Andiamo indietro Faccio vedere qualcuna veloce Ragazzi Che abbiamo più Oh attenzione Bella questa Questa è la KTM XBOV GTX Una panoramica veloce Ok no È fatto Fatto abbastanza bene Questo gioco È molto Carino È divertente E poi i gameplay Non sono tanto corti Come di solito troviamo Su altri giochi Di corse Sempre su smartphone Invece qua Sono abbastanza lunghe Le gare Allora Qui abbiamo invece La Renault Desert O Desir Eh no Andiamoci a fare Andiamoci a fare L'ultima gara Perché questo gioco Veramente Ci farà perdere tempo Secondo me Grado consigliato 540 La nostra è 624 Oh io Comunque Mi sto abituando Mi sto abituando Diciamo un pochino A giocare Perché Sì Diciamo che è facile Però Non proprio facile Non proprio facile Si parte Si parte Si parte Con il BMW Adesso facciamo una gara epica Vedo giù Attenzione Quasi Salta giù Facciamo un 360 Così Si recuperiamo Nos Mortai Sbagliati Bisogna stare attenti Mamma mia Poi magari Quando andiamo A preparare l'auto Diventa anche più Facile Diciamo Nella sterzata Nella guidabilità Oltre che alla velocità E tutto il resto Guardate qua Se prendo questo Madonna Il ciclo Sarà bloccato E attenzione La vince La vince Così Con un salto Mortale Così La vince Let's go Ragazzi Let's go Comunque Questo ragazzi Era Asphalt 9 Legends Ragazzi Un bel gioco Da giochicchiare Su Android Se volete Ma anche su iPhone Lo troviamo Su Play Store Tranquillamente Mi raccomando Like Ragazzi E commento Se vi è piaciuto Questo video E iscrivetevi Anche alla fine Se vi piace Il mio Canale Mi raccomando Ai commenti Ragazzi Perché Ci tengo Molto Noi ci vediamo Un prossimo video Ragazzi Mi raccomando Let's go